L'obiettivo principale è l'eliminazione dei bersagli Vuota Sì Alla scueta Arriva un lancio di equipaggiamento Andiamo a prendere il bunker E poi andiamola ancora con la macchina Così facciamo prima E vabbè dai No, uno ne ho trovato Non male 9000 ne ha dati Aspetta, tieni Così prendi Wavie Ah, vabbè, tienili Compro io No, compro io Wavie Teniamoli sempre che se uno dovesse andare giù almeno Io compro il bombardamento E ora sono full Quelli con l'elicottero non sono più qua E si è buttato giù E si è buttato giù Sì, lo tiro Tanto possiamo comprarlo Vedi, si è buttato giù Qui Jaguar 3-0 Confermato Pattugliamento Wavie iniziato Wavie nemico in volo Eh, prendo fantasma Qua, 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 qua È sceso da di qua Attenzione Wavie in rientro forzato per fare rifornimento Abbiamo uno è qua, Mancio Uno è qua È nuovo di qua Uno me lo pingava di lì Ma gli altri sono andati di qua Qua c'è No Sì, al mio ping Al mio ping Al mio ping Sì Io lo aspetterei qua Però stava sparando a qualcuno dall'altra parte Vado qui Metà delle persone sono da sole E se siamo da due sono 40 squadre Dovrebbero essere 80 Non la metà Ma quanti soldi hai Lasciamene un po' che se muori figaro Non tutti Tipo Che stronzo Che stronzo Io ti direi di aspettare un attimo se arriva qualcuno da qua dietro Sì, aspetta Si Finito Finito No, ma ha detto a terra ti magnetato Ho trovato un mezzo Vado di qua Vado di qua Destra Ma solo perché magari possiamo trovare un pelino più di gente Solo per quello Mi hanno sparato E hanno sparato Credo Sì E non lo so Mi ha sfiorato due volte Dalle case Dove sei te Se credo Eh, sì Va bene Tanto te hai l'attacco a grappolo Eh, sì, sì Tiralo subito così entriamo tranquilli UAB alleato in zona Sorbolo avviato Vado qui Qui c'è un venditore Rifornitevi pure Veicolo leggero Qui Eh, prima dobbiamo farci quello arancione Ok, lo vedo È rotto Fatto Sta cazzo di maschera di merda Allo shop c'era gente Non me l'ha più segnata Vabbè Qui davanti a me Mangio due Aspetta Fatti l'altro Schieramento finale in preparazione Datti da fare Gas in arrivo Spostamento della zona sicura Vabbè Vengo da te Allora Vabbè Io sono Sono full tutto Ce l'hai la sacca Piastre Vabbè Avanziamo Adesso Dobbiamo Eh, qua sopra È una merda Adesso Ci sarà gente Mi muovo di qua Mangio se salissimo qua Sopra Non siamo safe Però È infatti Tanto il tempo di andare C'è Devo riuscire a Se salto sull'altro tetto Riesco Devo riuscire a saltare di là Sotto qua da noi C'è gente Ce n'era uno lì Dove ho pingato io Attacco a grappolo La mancio E' mica in movimento La dove ti ho pingato Ne ho terrato uno Vabbè Passiamo dentro da qua Easy Gas in arrivo Spostamento della zona sicura Su sopra lì L'ho terrato uno Li vedo Lo vedo Lo vedo Aspetta Atterra La attacco Grappolo L'amico in movimento Che mierda Cogno Io là Ne ho atterrato uno Mancio Ok Ok Li ho visti Sono dritti là Andiamo Andiamo Safe La zona sicura È lontana Andiamo Vai che stanno fightando Che mierda Arrivo Arrivò Craccato Rialci rimasti Ci sei quasi Gas in movimento L'uomo a zona sicura Individuata Capo Qui serve una ricognizione Guardalo qua Fermato Cattugliamento UAV iniziato Aspetta Dobbiamo far scendere Quelli là Attenzione UAV in rientro forzato Per fare rifornimento Io c'ho due tasche Mi hanno colpito Aspetta Attacco a grappolo alleato In arrivo Restati Hai l'auto Rest Ah no Mancio È l'ultimo Del tuo team Completa Gas in movimento L'uomo a zona scura Individuata Ne rimangono cinque Concentrati State perdendo terreno Madonna Non pensavo fosse l'ultimo Questo è per forza Mancio Questa è per forza Puttana Che partita Mancio Qua lo faccio andare Tutto il video Dai Bella Fischia Aspetta Che faccio 8 8